L'efferato duplice omicidio del 2 gennaio scorso sarebbe maturato negli ambienti lavorativi di Armando Tommasino, il 56enne di Albanella ucciso a coltellate assieme alla compagna Maria Francesca Lamberti di 51 anni. La notte scorsa intorno alle 3 sono state fermate due persone perché indiziate di delitto. I presunti assassini sono rinchiusi nel carcere di Salerno Fuorni con l'accusa di omicidio puluri aggravato in concorso. Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina di 24 anni, messo sotto torchio dagli inquirenti per circa 15 ore e un italiano di 44 anni di capaccio pestum con diversi precedenti penali, bloccato la scorsa notte nella sua abitazione. A disporre lo stato di fermo la procura della Repubblica di Salerno diretta da Franco Roberti. Secondo le indagini coordinate dai sostituti Maria Chiara Minerva e Rosa Volpe della DDA di Salerno e condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Salerno diretti dal tenente colonnello Francesco Merone e dai colleghi della compagnia di Agropoli guidata dal capitano Raffaele Annichiarico a scatenare la furia omicida dei due, vi sarebbero motivi legati al mondo lavorativo di Armando Tommasino che raccoglieva ferro e rame usato per poi rivenderli. Ad inchiodare i due fermati la scorsa notte vi sarebbero una serie di indizi che fin dal primo momento avrebbero attirato l'attenzione degli inquirenti, tanto da convincerli a seguire con decisione la pista legata all'attività di Tommasino. Le indagini comunque proseguono con gli inquirenti alla ricerca di ulteriori indizi che potrebbero portare a sviluppi già nelle prossime ore. L'efferratezza del duplice omicidio non ha grossi precedenti nella zona. Il medico legale nel corso dell'esame esterno sui due cadaveri ha riscontrato sul corpo del 56enne 29 ferite d'arma da taglio, mentre per la compagna sarebbero state sferrate 36 coltellate. Il duplice omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una furibondalite.